Stacco della macchina con Sognador Robb, single FKS Spritzgriff in diagonale all'imbocco della prima curva, Sognador Robb. Numero 10, Solone Rec, squalificato. Alle sue spalle, single FKS avanti a special matto, lascia di fuori scoperto Spritzgriff. 14.2 il lancio si va di fronte, Sognador Robb in vantaggio sulla coppia composta, single FKS e all'esterno dal via Spritzgriff che cerca di ritrarsi alle spalle di quest'ultimo e avanti a special matto. 29 spaccato ai 400 metri iniziali, incolonnati i primi 4 in fine indiana, dietro nessuno vuole stare di fuori scoperto così che c'è un gap evidente fra la testa e il pacchetto centrale del gruppo. 45 e cammina la battistrada Sognador Robb, quando si va davanti alle tribune non ammette interferenze, single FKS Spritzgriff, ancora swing del ronco, quindi Sailing Laksmi accenna venire via. Schmidra in mezzo alla pista, un minuto agli 800 metri iniziali, si va sulla penultima curva con Sailing Laksmi che risale a largo in anticipo su Schmidra. L'errore di Showtime Moon, 16.2 il chilometro iniziale intanto in avanti di Sognador Robb. 12, Showtime Moon, squalificato. FKS richiesto, avvicinato da Sailing Laksmi, insiste, swing del ronco ora al paletto dei 1.002, chiuso in 1.31.7 con una dritta di fronte in 15.4 che basta per avere due lunghezze di margine a metà della piegata finale. Sognador Robb in vantaggio, seguito da Swing del ronco in mezzo alla pista che aggira, Sailing Laksmi avvicina, single FKS perché Sognador Robb all'ingresso della dritta arriva, in largo vantaggio a quattro chiare lunghezze nei confronti di Swing del ronco nel tratto conclusivo. Sognador Robb che non ha problema a venire a rifinire il tutto davanti a Swing del ronco. Al terzo ancora di dentro il single FKS che vince la guerra privata con Sailing Laksmi. 2.3 il totale, 31.2 gli ultimi quattro rotoloni che bastano però per centrare il successo che va scritto a Sognador Robb. Seconda vittoria in 13 uscite in carriera per il figlio di Dagirapid, Roberto Andreghetti. 16 netto, la media al chilometro che è record per il figlio di Gemma dei Robb di proprietà della scuderia San Michel. È allenato da Giorgio Carini. A presto! A presto! Grazie a tutti